Con il termine vaccino si indica un preparato che ha lo scopo di produrre gli anticorpi difensivi nei confronti di diverse malattie del genere umano. Non è facile riuscire a trovare questo preparato. Il primo vaccino per il vaiolo è stato realizzato dal pus presente nelle pustole presenti nelle mucche infette di vaiolo.